Natale e Santo Stefano Bollettino coronavirus, 3 decessi e altri 28 nuovi casi di positività al virus a Prato e provincia Crisi covid, si risparmia sull'RC auto, boom di sanzione a Prato e il bilancio dell'attività della Polizia Municipale Inaugurato il playground di via Giordano, 7 mila metri quadrati di verde, area fitness al macrolotto zero Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato Ci stiamo avvicinando a Natale a Santo Stefano e anche se Prato e l'Italia saranno in zona rossa Sarà possibile spostarsi per partecipare alle celebrazioni TV Prato trasmetterà in diretta la Messa della Natività Nel servizio ricordiamo le regole per gli spostamenti e gli orari delle messe Natale e Santo Stefano, la doppia festa per la città e la diocesi di Prato è ormai vicina Saranno giorni di zona rossa ma i fedeli potranno spostarsi per partecipare alle celebrazioni La richiesta è quella di recarsi nella propria parrocchia o nella chiesa più vicina alla propria abitazione e di avere con sé un modello di autodichiarazione Per garantire una presenza di fedeli ben distribuita i parroci hanno previsto più celebrazioni per il Natale In particolare la Messa nella Notte sarà celebrata in orari compatibili con il cosiddetto coprifuoco cioè entro le ore 22 Per chi non potesse uscire di casa, quest'anno la Messa nella Notte di Natale presieduta dal Vescovo Giovanni Nerbini viene trasmessa in diretta su TV Prato ma andiamo con ordine ricordando gli appuntamenti in cattedrale La Messa della Natività viene celebrata alle ore 20.30 TV Prato si collegherà con la cattedrale a partire dalle ore 20.20 Il 25 dicembre la prima Messa del giorno per il Vescovo sarà nel carcere della Dogaia per i detenuti mentre in Duomo le celebrazioni si tengono secondo l'orario festivo Il Solenne Pontificale è alle 10.30 Nel pomeriggio alle 17 Vespri Solenni e a seguire il Vescovo ufficia l'ostensione del Sacro Cingolo Al termine l'esposizione del Sasso di Santo Stefano In processione sarà portato dalla Cappella del Sacro Cingolo all'altare maggiore il reliquiario contenente il Sasso che la tradizione vuole sia stato uno di quelli con cui fu lapidato il Santo Patrono di Prato Il 26 dicembre è il giorno della festa patronale della città alle ore 10 Solenne Pontificale in diretta su TV Prato presieduto da Monsignor Nerbini e concelebrato dai sacerdoti della Diocesi Al termine della Messa proclamazione dei vincitori della undicesima edizione del Premio Santo Stefano per la tenuta del lavoro a Prato Il riconoscimento, chiamato anche Stefanino d'Oro viene consegnato a quelle aziende capaci di fare impresa in modo etico e rispettoso dei valori del lavoro e della concorrenza 28 nuovi casi, altri 3 decessi e il focus relativo a Prato e provincia dell'ultimo bollettino regionale sull'andamento del contagio da Covid Le vittime sono un uomo di 79 anni di Montemurlo ricoverato all'ospedale San Jacopo di Pistoia un 91enne pratese che si trovava in RSA e una donna di 99 anni pratese alla Melagrana Narnali In Toscana i positivi emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 6.638 tamponi sono stati 452 mentre le vittime sono 34 Nella nostra regione le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono adesso complessivamente 1.150 stabili rispetto a ieri sono 185 ricoverati in terapia intensiva due in meno rispetto a ieri Calano gli incidenti ma aumentano le infrazioni gravi come la circolazione senza RC auto il passaggio col semaforo rosso e la guida senza cinture di sicurezza sono i dati relativi al 2020 divulgati dalla Polizia Municipale di Prato in occasione della presentazione del calendario del nuovo anno Quando la crisi economica comincia a mordere sul serio una tra le prime voci su cui si taglia è l'assicurazione dell'auto lo dicono i dati relativi ai controlli della Polizia Municipale di Prato incidenti diminuiti del 30% nel 2020 rispetto al 2019 ma più sanzioni per mancata copertura assicurativa dei veicoli i numeri assoluti si è passati dalle 557 del 2019 alle 816 del 2020 nonostante i vari confinamenti aumentano anche altre infrazioni gravi come il mancato uso della cintura di sicurezza l'omissione di soccorso e il passaggio col rosso le cui sanzioni sono aumentate del 343% sul 2019 a tal proposito il 2021 porterà tre nuovi occhi elettronici nel comune di Prato per pizzicare i furbetti del rosso al semaforo tra via Arcangele e via Livi tra via Filzi e via Marini e tra via Pistoiese e via del Campaccio Ovviamente molta attività si è espletata nell'ambito dei controlli sulle misure conseguenti all'emergenza sanitaria dall'inizio dell'emergenza sanitaria dal 10 di marzo sono state impiegate nell'ambito Interforce ben 1612 pattuglie della Polizia Municipale con 6443 controlli di autocertificazioni e da marzo al 15 dicembre sono state elevate 473 verbali alle normative collegate ai DPCM che si sono susseguiti nel tempo Tra le buone notizie è il calo drastico delle sanzioni sulle esterovestizioni cioè le auto targate all'estero diminuite del 91% rispetto al 2019 e come già accennato la diminuzione dei sinistri stradali anche se sono in aumento quelli che vedono coinvolti monopattini sono stati sei solo nel mese di novembre L'organico siamo sempre sotto quota a meno che non cambino delle normative il concorso non si potrà espletare perché vi sono delle restrizioni in tal senso però attendiamo delle modifiche per poter assumere quattro nuovi ufficiali 115 persone controllate due titolari di locali sanzionati e 15 avventori multati è il bilancio dei controlli eseguiti sabato dai carabinieri di Prato nell'ambito di specifici controlli finalizzati a garantire il rispetto delle vigenti normative anti-covid il caso più grave è stato riscontrato la notte tra sabato e domenica scorsa in un pub di via Marianna Nistri dove si stava svolgendo una festa tra cittadini stranieri i carabinieri hanno effettuato il controllo richiamati dalle voci e dai rumori che provenivano dal locale all'interno hanno trovato una decina di persone nei cui confronti sono scattate le sanzioni amministrative così come per la proprietà del pub è stato aperto il playground di via Giordano la prima opera del piano di innovazione urbana al macrolotto zero oltre 7.000 metri quadrati di verde e attrezzature sportive in un'area densamente abitata vediamo è stato aperto ufficialmente oggi lo spazio playground tra via Giordano via Colombo e via da Verrazzano oltre 7.000 metri quadrati di verde e attrezzature sportive in un'area densamente abitata è il primo dei tre cantieri del piano di innovazione urbana al macrolotto zero insieme al mercato metropolitano e alla media library ad essere ultimato il campo da calcio a 5 lo skate park e la piazza per le manifestazioni pubbliche hanno preso il posto in un'area incolta noi oggi stiamo aprendo anche se in realtà è già aperto da diversi giorni nella città sono circa un ettaro sono 8.000 metri quadrati di nuovi spazi pubblici completamente riqualificati qui c'era un piazzale in asfalto sostanzialmente di un'azienda e oggi è diventato uno spazio aperto a tutti quindi un luogo che noi riteniamo sia un dono che viene fatto alla città in senso lato questo è un posto lo vedete dove ci sono spazi dove si può fare attività ginnica anche per allenamenti importanti quindi per le associazioni sportive c'è un luogo dove si può giocare a calcetto c'è una piazza dove si possono fare attività culturali manifestazioni legate al sociale legato appunto al cinema qui ci sono state per molte volte delle manifestazioni di cinema all'aperto c'è uno skate park dove quindi possono venire i ragazzi da tutta la città e già stanno venendo quindi è un luogo per gli abitanti del Marlotto Zero chiaramente per gli abitanti del quartiere ma che in realtà ragiona in modo positivo su quello che noi stiamo dicendo il Marlotto Zero è un luogo importante per la città è vicino al centro storico ha una vocazione di essere un distretto creativo uno degli elementi di maggiore richiamo estetico è rappresentato da un silos per la raccolta dell'acqua di un'ex rifinizione che viene mantenuto a memoria dell'ex area industriale e che è diventato un'installazione artistica ogni attrezzo dell'area fitness è dotato di un QR code con cui scaricare l'app sul proprio smartphone che spiega le modalità di allenamento da seguire l'investimento per l'opera è stato di 1.800.000 euro momenti di paura ieri sera intorno alle 20.30 per un incendio divampato in un condominio di Viale Galilei ad andare a fuoco sono stati alcuni materiali all'interno di una autorimessa interrata il che ha reso particolarmente difficoltoso l'intervento dei vigili del fuoco a corsi sul posto con più squadre provenienti dal distaccamento di Montemurlo e dalla sede centrale sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 che è stata allertata in via precauzionale per fortuna non si registrano persone coinvolte nell'incendio che è stato domato dai vigili del fuoco prima che si propagasse alle altre abitazioni del condominio sabato sera in cattedrale in diretta streaming si è tenuta la veglia dell'avvento promossa dalla pastorale giovanile con il vescovo Giovanni Nerbini per l'occasione è stata accolta anche la luce di Betlemme rallegrati non temere nulla è impossibile addio da queste tre esortazioni riprese dal Vangelo dell'Annunciazione partita la riflessione del vescovo Giovanni Nerbini in occasione della veglia d'avvento organizzata dalla pastorale giovanile una veglia che a causa delle normative anticontagio si è tenuta a porte chiuse ma che è stata trasmessa in diretta sui canali social della pastorale giovanile e di TV Prato nelle sue riflessioni il vescovo ha preso come esempio tre differenti personaggi Jacques Feche francese condannato a morte a 27 anni convertitosi in carcere madre Elvira fondatrice della comunità del Cenacolo e Sharbats Bhatti pakistano cristiano ministro degli affari religiosi assassinato dagli integralisti tre testimonianze differenti per far riflettere i giovani su come la santità sia alla portata di tutti se voi ci pensate bene tanta parte della sofferenza di questo periodo è legato a cose che avevamo e che non possiamo più avere dimenticando che tanta gente e tante persone come noi non le hanno mai avute e quindi non hanno nemmeno avuto la sofferenza di doverci rinunciare ma noi dobbiamo ricordare sempre qual è il motivo più alto di questa gioia di questa allegrezza siate sempre lieti nel Signore di Rapaolo il Signore è con te per l'occasione è stata anche accolta la luce di Betlemme una tradizione diffusa da oltre vent'anni in città grazie agli scout ogni anno infatti prima di Natale gli scout austriaci si recano in terra santa nella Basilica della Natività per accendere una lanterna con la fiamma che arde sul luogo dove è nato Gesù luce che poi viene portata in tutta Europa e anche appunto agli scout pratesi ma la pandemia ha impedito il ripetersi di questa tradizione Prato riuscirà però ugualmente a distribuire la luce di Betlemme in quanto la famiglia Mariotti Pagnini dell'associazione Dorenato Chiodaroli non ha mai spento la fiammella accesa lo scorso Natale chi volesse la luce può dunque prenderla in Duomo è bello questo discorso della lampada conservata da questa signora per tutto l'anno ma alla fine a parte il linguaggio della luce che è primario nel Natale che cosa ci dice che Gesù è sempre con noi che arrivi o che non arrivi da Betlemme che qualcuno abbia conservato o meno ma la luce di Cristo brilla sempre nella nostra vita siamo noi che qualche volta non ce ne accorgiamo perché l'abbiamo messo da parte perché guardiamo altre luci o meglio guardiamo molto spesso le lampadine da stasera fino alla vigilia di Natale su TV Prato va in onda le pillole di Suore Elena il ciclo di riflessione a cura di Solenna Zanardi delle Domenicane di Santa Maria del Rosario in preparazione appunto al Natale vediamo carissimi apriamo anche oggi il nostro scatolone siamo oramai mancano quattro giorni al Natale e sta terminando anche la nostra novena da questa scatola della novena abbiamo già tirato fuori il dormiente l'estasiato abbiamo tirato fuori i magi con i loro doni abbiamo tirato fuori l'angelo oggi tocca a San Giuseppe San Giuseppe è questo personaggio così simpatico questo personaggio di cui si parla pochissimo a tutti noi piace essere i protagonisti piace essere nel centro della scena che si dica o non si dica a tutti noi piace essere i primi farci vedere ecco allora che Giuseppe invece è il personaggio che sa mettersi da una parte sa mettersi da una parte perché sa obbedire alla voce del Signore ripensiamo un po' ai vari momenti del Vangelo che se ne parla era fidanzata con Maria pensava di fare una bella famigliola si sente dire da Maria che aspetta un bambino da parte di Dio è turbato ma un angelo e avevo detto che angelo sono gli annunci del Signore gli dice non temere Giuseppe di prendere con te Maria Giuseppe prende con sé Maria mettendo da parte tutti i suoi progetti mettendo da parte tutto il suo orgoglio ma andiamo avanti nasce questo bambino abita l'embe Giuseppe sogna molto probabilmente di iniziare una vita insieme e si sente dire un angelo fuggi perché l'eroe vuole ammazzare il bambino e lui lascia un'altra volta le sue certezze lascia un'altra volta le sue convenzioni e segue la voce dell'angelo ma andiamo avanti questo bambino diventa grande va a Gerusalemme con lui e a Gerusalemme questo bambino rimane nel tempio quando si ritrova dice non sapeva non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio Giuseppe aveva detto sono io sono io quanto cresce e ti do da mangiare ma Giuseppe accetta che sia il padre del cielo a guidare la vita di Gesù ecco da Giuseppe impariamo a metterci nelle tre guardie da Giuseppe impariamo a essere sempre disposti alla volontà di Dio anche questa quando questa ci costa è morta a causa del covid Francesco Mininni critico cinematografico di Toscana oggi aveva 63 anni un mese e mezzo fa aveva contratto il coronavirus sin dalla fondazione del settimanale nel 1983 ha curato la rubrica del cinema per Toscano oggi per i lettori quelli con il film della settimana era un appuntamento imperdibile alcuni anni fa come vedete dall'immagine aveva curato introdotto la visione di un ciclo di film per tv Prato insieme a Monsignor Andrea Bellandi aveva scritto anche una biografia per Roberto Benigni lascia la moglie e due figli anche il Borsi come tutti i teatri è chiuso a causa della pandemia ma l'attività non si ferma durante le festività natalizie tv Prato trasmetterà quattro speciali concerti eseguiti all'aperto in alcuni spazi della città dedicati a Beethoven ieri la prima incursione in piazza Duomo vediamo questi concerti dedicati al grande Ludwig van Beethoven di cui ricorre il 250esimo della nascita dovevano essere fatti per voi al Teatro Borsi il lockdown la situazione difficile che stiamo vivendo ci ha impedito di poterli rappresentare e programmare al Teatro Borsi che è chiuso per questo però ringrazio ringrazio di cuore il Comune di Prato la Curia Vescovile e anche TV Prato perché udite udite i quattro concerti andranno in onda nell'emittente pratese durante le feste le prossime feste ormai imminenti e speriamo di rivederci presto quanto prima al Teatro Borsi che per adesso è chiuso ma è vivissimo Come direttore artistico di questo progetto mi premeva dare la possibilità a questi favolosi musicisti di avere l'occasione di esibirsi oggi siamo qui in piazza del Duomo per un flash mob che è una formula nuova tutta da sperimentare e quindi sono lieto che alla fine seppur con qualche differenza rispetto ai concerti abituali siamo riusciti a concretizzare questo appuntamento in arrivo un milione e mezzo di ristori per partite IVA dello spettacolo e non solo scopriamone di più Il Consiglio regionale della Toscana ha stanziato 1,5 milioni di euro per sostenere le partite IVA del mondo dello spettacolo e della cultura le proloco i maestri di sci soggetti lasciati fuori da altre misure di sostegno per affrontare la crisi economica conseguenza di quella sanitaria dovuta alla Covid-19 a presentare i provvedimenti sono stati membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale cioè il presidente Antonio Mazzeo i due vicepresidenti Marco Casucci e Stefano Scaramelli i segretari Federica Fratoni e Diego Petrucci per i lavoratori dello spettacolo le forme di ristoro sono due Lo facciamo ponendo grande attenzione al tema dell'identità della Toscana chiediamo a ciascuno di loro di presentarci anche dei progetti perché vogliamo valorizzare la nostra identità noi faremo due linee di intervento una linea con un ristoro fino a 500 euro per coloro i quali non presenteranno progetti e fino a 2.000 euro per tutti coloro i quali presenteranno dei progetti Il provvedimento è suddiviso in tre distinte proposte di legge approvate nell'ultima seduta dell'anno dell'ufficio di presidenza ai lavoratori dello spettacolo è destinato un milione alle proloco sono destinati 250.000 euro e i circa 300 maestri di sci toscani potranno contare su 200.000 euro di contributi E passiamo adesso allo sport al calcio finisce 1-1 la sfida tra Real Forte Querceta e Prato ce ne parla Massimiliano Masi Avanti a piccoli passi il Prato incassa il secondo pareggio stagionale il primo in trasferta impattando per 1-1 al Necchi Balloni di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta un pareggio che consente al Prato di rimanere imbattuto in campionato e di accorciare in classifica sull'Aglianese sonoramente superata sul campo del Fiorenzuola inizia meglio il Prato Calosi riscalda i guantoni ad adornato mentre Tavano ha la mira difettosa e alla mezz'ora deve lasciare il campo per infortunio lasciando il posto a Melandri alla mezz'ora il Real Forte Querceta passa in vantaggio con questo super gol di Di Paola desperto Bomber sale in bicicletta 1-0 per i versilesi nella ripresa la partita rimane equilibrata il Real Forte Querceta protesta per questo gol annullato per fuorigioco a Lazzerini mentre il Prato cresce con il passare dei minuti Giampà difensore con il vizio del gol esalta le doti del portiere adornato il Prato riesce a pareggiare su calcio di rigore minuto 85 Biagini rinvia nel vero senso della parola Melandri e induce l'arbitro a concedere il penalty dal dischetto Marco Cellini realizza con freddezza la rete del pareggio finisce uno a uno abbiamo fatto una partenza intelligente sana da squadra forte convinta con qualità non abbiamo fatto gol ma lo avremmo meritato e poi siamo calati siamo calati il Forte Querceta che è una squadra forte sana e mi meraviglio come abbiamo fatto a perdere in due situazioni per una squadra che ha valori ha trovato questo gol in una prudezza e poi ha costruito la sua partita con sacrificio con corsa mettendosi anche in condizione di elevare tutta la profondità possibile aiutando mano anche a giocatori come Guidi che sono esperti che quando occupano l'aria sono bravi però noi abbiamo lavorato con un sacrificio non con tantissima lucidità però abbiamo spinto e permettetemi di dire che capisco il rammarico ma noi il risultato nel complesso è assolutamente legittimo un pareggio che consente al Prato di muovere la classifica e accorciare sull'Aglianese e mercoledì si torna in campo per il turno prenatalizio all'Adonelli di Montemurlo arriva il Mezzolara non c'è un attimo di trego e approfondimenti su Real Forte Querceta Prato ma non solo questa sera in diretta come sempre il gioco è fatto per saperne di più passiamo la parola a Massimiliano Masi grazie Arianna 21 e 20 rigorosamente in diretta una super puntata del gioco è fatto davvero da non perdere approfondiremo e come se approfondiremo i temi del campionato di Serie D Gironedì con il Prato che impatta tra le polemiche uno a uno sul campo della Real Forte Querceta e accorcia in classifica sulla capolista aglianese sonoramente sconfitta pensata per 5 a 1 sul campo del Fiorenzo la cosa è successo alla formazione pistoiese cercheremo ovviamente di approfondire anche questa tematica per quanto riguarda invece il Gironè sempre del campionato di Sredì in primo piano il Follonica Gavorrano che sta risalendo la classifica e si porta ad un passo dal vertice continua a volare il Siena di Alberto Gilardino mentre è situazione delicata per le due formazioni fiorentine perde lo Scandicci sempre ultimo in classifica ma perde anche il Grassina avremo ospiti eccellenti cercheremo di capire cosa ci attende anche in vista del turno prenatalizio sì perché mercoledì si torna in campo per il turno prima appunto delle festività di Natale potete interagire con noi lo sapete attraverso gli sms oppure l'applicazione whatsapp allora prendete carta penna e calamaio per segnare il numero il 331 1-8-8-8-6-7-6 allora 21 e 20 rigorosamente in diretta per una super puntata di giochi fatto vi aspetto non cambiate canale a più tardi grazie Massimiliano a più tardi e spazio adesso al gusto vediamo quindi cosa in serbo chef Diana Cecconi per la puntata di domani di In Cucina con Diana in onda alle 13 e 20 voglio fare l'avocado toast l'avocado toast è anche per un brunch come dicano fanno ora usa fare i brunch questo è il formaggio spalmabile mi raccomando quando provate a farli anche in altri modi come vi pare però cucinate sempre e comunque buon appetito ciao ma prima di tutto a tavola bambini mangiate ciao 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 a domani e non ci sono ulteriori aggiornamenti il telegiornale termina qui l'informazione di tv prato torna domani alle 13 e 45 con il tg del giorno ma rimanete con noi vi lasciamo alle previsioni del tempo come sempre a cura del consorzio l'amma a seguire chiedilo al sindaco con il primo cittadino Matteo Biffoni e poi la trasmissione di calcio il gioco è fatto vi ricordiamo inoltre domani alle 17 in diretta dal duomo di prato la novena in preparazione al natale e a seguire la santa messa grazie per averci seguito e arrivederci dal 2004 David Servizi offre sistemi completi di pulizia con tecniche e strumentazioni all'avanguardia i nostri punti di forza sono professionalità rapidità d'esecuzione e prodotti a basso impatto ecologico David Servizi buonasera e ben ritrovati con le previsioni mete a cura del consorzio l'amma condizione di alta pressione sì sulla nostra penisola ma una bassa pressione tra la penisola iberica e il golfo del leone piloterà area umida e decisamente mite dai quadranti meridionali lungo la nostra penisola quindi avremo maggiore copertura nuvolosa nei prossimi giorni mentre un cambio di circolazione caratterizzato da area più fredda e instabile proveniente dal nord Europa è atteso a partire dalla giornata di Natale e soprattutto quella di Santo Stefano ma ci aggiorneremo meglio nei prossimi giorni andiamo per gradi e vediamo la previsione per la giornata di domani martedì una giornata caratterizzata da maggiore copertura nuvolosa nuvoloso o molto nuvoloso il cielo in particolare sulle zone settentrionali dove anche qualche debole pioggia interesserà soprattutto la costa il Val d'Arno inferiore e le zone di nord ovest andrà un po' meglio nel pomeriggio in particolare sulle zone meridionali venti come accennavo prima saranno dai quadranti meridionali deboli o assenti nell'interno fino a moderati sull'arcipelago aumenteranno le temperature soprattutto in montagna basti pensare che lo zero termico si attesterà oltre i 3000 metri di quota infine la giornata di mercoledì giornata pressoché analoga con qualche pioggia soprattutto sul nord ovest zone settentrionali mentre come di consueto andrà meglio al sud eventi sempre meridionali le temperature pressoché invariate è tutto grazie per l'attenzione e una buona serata dal 2004 David Servizi offre sistemi completi di pulizia con tecniche e strumentazioni all'avanguardia i nostri punti di forza sono professionalità rapidità d'esecuzione e prodotti a basso impatto ecologico David Servizi Natale Santo Stefano le celebrazioni in Duomo presedute dal Vescovo Nervini e le dirette su TV Prato incendio nell'autorimessa di un condominio momenti di paura ieri sera in Viale Galilei secondo pareggio stagionale per il Prato a Forte dei Marmi con il Real Forte Querceta finisce 1-1 una buona giornata dalla nostra redazione ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato ci stiamo avvicinando a Natale a Santo Stefano e anche se Prato e l'Italia saranno in zona rossa sarà comunque possibile spostarsi per partecipare alle celebrazioni TV Prato trasmetterà in diretta la messa della Natività nel servizio ricordiamo le regole per gli spostamenti e gli orari delle messe Natale e Santo Stefano la doppia festa per la città e la diocesi di Prato è ormai vicina saranno giorni di zona rossa ma i fedeli potranno spostarsi per partecipare alle celebrazioni la richiesta è quella di recarsi nella propria parrocchia o nella chiesa più vicina alla propria abitazione e di avere con sé un modello di autodichiarazione per garantire una presenza di fedeli ben distribuita i parroci hanno previsto più celebrazioni per il Natale in particolare la messa nella notte sarà celebrata in orari compatibili con il cosiddetto coprifuoco cioè entro le ore 22 per chi non potesse uscire di casa quest'anno la messa nella notte di Natale presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini viene trasmessa in diretta su TV Prato ma andiamo con ordine ricordando gli appuntamenti in cattedrale la messa della natività viene celebrata alle ore 20 e 30 TV Prato si collegherà con la cattedrale a partire dalle ore 20 e 20 il 25 dicembre la prima messa del giorno per il vescovo sarà nel carcere della dogaia per i detenuti mentre in Duomo le celebrazioni si tengono secondo l'orario festivo il solenne pontificale è alle 10 e 30 nel pomeriggio alle 17 vespri solenni e a seguire il vescovo ufficia l'ostensione del sacrocingolo al termine l'esposizione del sasso di Santo Stefano in processione sarà portato dalla cappella del sacrocingolo all'altare maggiore il reliquiario contenente il sasso che la tradizione vuole sia stato uno di quelli con cui fu lapidato il santo patrono di Prato il 26 dicembre è il giorno della festa patronale della città alle ore 10 solenne pontificale in diretta su TV Prato presieduto da Monsignor Nerbini e concelebrato dai sacerdoti della diocesi al termine della messa proclamazione dei vincitori della undicesima edizione del premio Santo Stefano per la tenuta del lavoro a Prato il riconoscimento chiamato anche Stefanino Doro viene consegnato a quelle aziende capaci di fare impresa in modo etico e rispettoso dei valori del lavoro e della concorrenza sabato sera in cattedrale in diretta streaming si è tenuta la veglia d'avvento promossa dalla pastorale giovanile con il vescovo Giovanni Nerbini per l'occasione è stata accolta anche la luce di Betlemme Rallegrati non temere nulla è impossibile addio da queste tre esortazioni riprese dal Vangelo dell'Annunciazione è partita la riflessione del vescovo Giovanni Nerbini in occasione della veglia d'avvento organizzata dalla pastorale giovanile una veglia che a causa delle normative anticontagio si è tenuta a porte chiuse ma che è stata trasmessa in diretta sui canali social della pastorale giovanile e di TV Prato nelle sue riflessioni il vescovo ha preso come esempio tre differenti personaggi Jacques Fèche francese condannato a morte a 27 anni convertitosi in carcere madre Elvira fondatrice della comunità del Cenacolo e Charbats Batti pakistano cristiano ministro degli affari religiosi assassinato dagli integralisti tre testimonianze differenti per far riflettere i giovani su come la santità sia alla portata di tutti se voi ci pensate bene tanta parte della sofferenza di questo periodo è legato a cose che avevamo e che non possiamo più avere dimenticando che tanta gente tante persone come noi non le hanno mai avute e quindi non hanno nemmeno avuto la sofferenza di doverci rinunciare ma noi dobbiamo ricordare sempre qual è il motivo più alto di questa gioia di questa allegrezza siate sempre lieti nel Signore di Rapaolo il Signore è con te per l'occasione è stata anche accolta la luce di Betlemme una tradizione diffusa da oltre 20 anni in città grazie agli scout ogni anno infatti prima di Natale gli scout austriaci si recano in Terra Santa nella Basilica della Natività per accendere una lanterna con la fiamma che arde sul luogo dove è nato Gesù luce che poi viene portata in tutta Europa e anche appunto agli scout pratesi ma la pandemia ha impedito il ripetersi di questa tradizione Prato riuscirà però ugualmente a distribuire la luce di Betlemme in quanto la famiglia Mariotti Pagnini dell'associazione Dorenato Chiodaroli non ha mai spento la fiammella accesa lo scorso Natale chi volesse la luce può dunque prenderla in Duomo è bello questo discorso della lampada conservata da questa signora per tutto l'anno ma alla fine a parte il linguaggio della luce che è primario nella tale che cosa ci dice che Gesù è sempre con noi che arrivi o che non arrivi da Betlemme che qualcuno abbia conservato o meno ma la luce di Cristo brilla sempre nella nostra vita siamo noi che qualche volta non ce ne accorgiamo perché l'abbiamo messo da parte perché guardiamo altre luci o meglio guardiamo molto spesso le lampadine momenti di paura ieri sera intorno alle 20 e 30 per un incendio divampato in un condominio di Viale Galilei ad andare a fuoco sono stati alcuni materiali all'interno di un'autorimessa interrata il che ha reso particolarmente difficoltoso l'intervento dei vigili del fuoco a corsi sul posto anche con più squadre provenienti dal distaccamento di Montemurlo e dalla sede centrale sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 che è stata allertata in via precauzionale per fortuna non si registrano persone coinvolte nell'incendio che è stato domato dai vigili del fuoco prima che si propagasse alle altre abitazioni del condominio e adesso la cronaca 115 persone controllate due titolari di locali sanzionati e 15 avventori multati è il bilancio dei controlli eseguiti sabato dai carabinieri di Prato nell'ambito di specifici controlli finalizzati a garantire il rispetto delle vigenti normative anti-covid il caso più grave è stato riscontrato la notte tra sabato e domenica scorsi in un pub di via Marianna Nistri dove si stava svolgendo una festa tra cittadini stranieri i carabinieri hanno effettuato il controllo richiamati dalle voci e dai rumori che provenivano dal locale all'interno hanno trovato una decina di persone nei cui confronti sono scattate le sanzioni amministrative così come per la proprietaria del pub insieme possiamo a Montemurlo nasce lo sportello psicologico per studenti e famiglie per affrontare le conseguenze della pandemia servizio completamente gratuito per tutti gli studenti che frequentano le scuole anche non del territorio l'unico requisito è la residenza a Montemurlo a Montemurlo nasce lo sportello di supporto psicologico per studenti e famiglie per affrontare le conseguenze della pandemia il progetto Insieme Possiamo nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di offrire un aiuto concreto per affrontare nervosismo anzi a paura di uscire chiusura in se stessi tipici di questo momento di isolamento sociale Il progetto finanziato direttamente dal comune di Montemurlo ha preso il via questa settimana e si appoggia agli sportelli di ascolto presenti all'interno della scuola media Salvemini Lapira e del liceo artistico Brunelleschi Si è deciso e questo grazie alla disponibilità appunto delle scuole di aprire le scuole anche a chi non frequenta questo perché si è pensato che comunque tutti i ragazzi di Montemurlo ben o male hanno frequentato le famose scuole e in tutti questo luogo è un luogo familiare quindi sicuramente poter raccontare quello che stanno vivendo quindi diciamo anche i sentimenti legati all'isolamento il non andare a scuola è più semplice raccontarlo in un luogo familiare e non in un ambulatorio qualsiasi di un qualsiasi studio medico Ho accolto con particolare favore questa proposta dell'assessore di Montemurlo perché penso che il servizio che da anni abbiamo all'interno della scuola del liceo artistico Brunelleschi possa servire a tutto il territorio Il servizio è completamente gratuito e per prenotare un appuntamento basterà chiamare il numero telefonico 347 959 64 L'unico requisito richiesto è quello di essere residenti a Montemurlo I genitori sono anche un po' preoccupati perché cominciano ad evidenziarsi dei segnali come quello di passare le nottate magari a chattare con gli amici e questo chiaramente poi determina il fatto che i ragazzi la loro routine viene scombussolata e anche i ritmi La guardia di finanza ha sequestrato in un negozio oltre 14.500 articoli di varia natura non rispondente canoni di sicurezza previsti dalla legge i prodotti non regolari in particolare accessori per l'abbigliamento mascherine bigiotterie giocattoli non riportavano in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni sul produttore e importatore il paese di origine la presenza di materiali o sostanze potenzialmente pericolose nonché le istruzioni e le eventuali precauzioni circa la destinazione d'uso le articoli non conformi se posti in vendita avrebbero permesso un guadagno di circa 50.000 euro la titolare del negozio una 27enne cittadina cinese residente a Prato è stata segnalata alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative per l'irrogazione delle sanzioni e passiamo adesso allo sport al calcio finisce 1 a 1 la sfida tra Real Forte Quercete e Prato ce ne parla Massimiliano Masi avanti a piccoli passi il Prato incassa il secondo pareggio stagionale il primo in trasferta impattando per uno a uno al necchi balloni di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta un pareggio che consente al Prato di rimanere imbattuto in campionato e di accorciare in classifica sull'aglianese sonoramente superata sul campo del Fiorenzuola inizia meglio il Prato Calosi riscalda i guantoni ad adornato mentre Tavano alla mira difettosa e alla mezz'ora deve lasciare il campo per infortunio lasciando il posto a Melandri alla mezz'ora il Real Forte Querceta passa in vantaggio con questo super goal di Di Paola l'esperto Bomber sale in bicicletta 1 a 0 per i versilesi nella ripresa la partita rimane equilibrata il Real Forte Querceta protesta per questo gol annullato per fuori gioco a Lazzerini mentre il Prato cresce con il passare dei minuti Giampà difensore con il vizio del gol esalta le doti del portiere adornato il Prato riesce a pareggiare su calcio di rigore minuto 85 Biagini rinvia nel vero senso della parola Melandri e induce l'arbitro a concedere il penalty dal dischetto Marco Cellini realizza con freddezza la rete del pareggio finisce uno a uno ha fatto una partenza intelligente sana da squadra forte convinta con qualità non abbiamo fatto gol ma lo avremmo meritato e poi siamo calati siamo calati il Forte Querceta che è una squadra forte sana e mi meraviglio come abbiamo fatto a perdere in due situazioni per una squadra che ha valori ha trovato questo gol in una prudezza e poi ha costruito la sua partita con sacrificio con corsa mettendosi anche in condizione di elevare tutta la profondità possibile aiutando mano anche a giocatori come Guidi che sono esperti che quando occupano l'aria sono bravi però noi abbiamo lavorato con un sacrificio non con tantissima lucidità però abbiamo spinto e permettetemi di dire che capisco il rammarico ma noi il risultato nel complesso è assolutamente legittimo un pareggio che consente al Prato di muovere la classifica e accorciare sull'Aglianese e mercoledì si torna in campo per il turno prenatalizio all'Adonelli di Montemurlo arriva il Mezzolara non c'è un attimo di tregua Passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma Buongiorno e ben ritrovati con le previsioni mete a cura del Consorzio Lamma una breve parentesi di alta pressione interessa alla nostra penisola tuttavia permane un flusso piuttosto umido e decisamente mite dai quadranti meridionali che soprattutto tra domani e giovedì porterà una maggiore copertura nuvolosa anche sulla Toscana e qualche debole locale pioggia poi un cambio di circolazione atteso a partire dalla giornata di Natale soprattutto Santo Stefano con aria più fredda e instabile che scivolerà da nord Europa anche sul Mediterraneo ma andiamo per gradi andiamo a vedere la previsione per oggi avremo inizialmente un cielo poco nuvoloso ma dal pomeriggio soprattutto in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalla costa settentrionale zona di nord ovest non si esclude anche qualche debole locale pioggia in serata in prossimità della costa settentrionale temperature di oggi in lieve diminuzione domani avremo una giornata caratterizzata da una maggiore copertura nuvolosa nuvoloso molto nuvoloso il cielo risulterà soprattutto sulle zone settentrionali qualche debole pioggia a carattere sparso interesserà la costa settentrionale il valdarno inferiore la lucchesia comunque fenomeni di debole intensità come dicevo avremo venti meridionali a tratti moderati sull'arcipelago deboli o assenti nell'interno e temperature in aumento basti pensare che in quota avremo lo zero termico che andrà oltre i 3.000 metri quindi temperature decisamente superiori alle medie soprattutto in montagna è tutto grazie per l'attenzione e una buona giornata e non ci sono ulteriori aggiornamenti il telegiornale termina qui l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30 vi ricordiamo inoltre alle 17 in diretta dal Duomo di Prato la novena in preparazione a Natale e a seguire la Santa Messa grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.